La riforma del terzo settore, quali in realtà sono effettivamente coinvolte, i vantaggi, le scadenze e i grattacapi a cui è destinato il mondo del no profit, in particolare quello degli enti di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Se ne è discusso ieri pomeriggio presso la biblioteca Antonio Cafaro di Adelfia con l'assessore alle politiche sociali Biagio Cistulli e i suoi ospiti Vito Intino, portavoce del forum terzo settore in Puglia e Anna Maria Candela, dirigente della regione. che hanno dato chiarimenti sulle modifiche legislative, in particolare sulle linee guida regionale per gli adeguamenti statutari, ma anche sull'evoluzione in termini di significato e di sistemi attuativi dei concetti di innovazione e sviluppo dell'economia sociale.